Aiutatemi! Ingrid sta male! Sta molto male! Dottor Mike! Chiamate Dottor Mike! Presto! La sua asma! La prego! La prego aiuti! Sally, aiutami a portarla dentro! Quando è cominciato? Aveva male alla testa! Le ho portato dell'acqua e ha iniziato ansima! Colin è a scuola! Vado a chiamarla! Vi prego, chiamate Matthew! È alla casetta! Allora ci siamo proprio! Idrofobia! Sentito quello che ha detto? La ragazza ha paura dell'acqua! Ha preso la rabbia! Ingrid! Ingrid! Dov'è Ingrid? È qui dentro! Saresti solo d'impiccio! La carrozza! No! Presto la carrozza! Ingrid! No! Ingrid! No, stami lontano! Ti prego Matthew, aspetta fuori! Andiamo Matthew! Mamma, mamma! Perché non mi ascolti? Ingrid! Ti ho detto di andartene! Devo fare da mangiare! Calmati! È la montagna! È la montagna! Bisogna stare attenti! Così? Ingrid! Non andate! Mamma, mamma! Dove sei, mamma? Mamma! Mamma! Oh no! Mamma! 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 Pensi che morirà? Sì. Ci deve pure essere qualcosa da fare. Una medicina, qualcosa. Cosa? Cosa vuol dire che dobbiamo lasciarla morire così? Medio, mi dispiace tanto. So vederla. Le ho dato un sedativo, ma i suoi nervi sono ancora sensibili. Ogni suono o movimento, persino un tocco, è doloroso. Non ti riconoscerà. Tu stai bene? E tu? Sì. Dov'è Brian? Eccone Loren. Lui lo sa. Glielo dirò. Stai pensando ad Abigail? Un po'. Quando credeti che David fosse morto, sentii come se il mio cuore fosse stato lacerato. Ero convinta che nient'altro mi avrebbe fatto soffrire tanto. Vedere mio figlio passare la stessa cosa... è peggio.